ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video come sapete tempo fa è stato aggiunto la modalità caccia agli oggetti su card di modewolf for remastered e anche questo fine settimana è stata aggiunta quindi voglio proporvi questo questo video su questa modalità che penso sia epica quindi metti di comedy e buona visione eccoci ragazzi siamo in partita siamo i cercatori quindi ok perfetto abbiamo stato aspettare siamo sulla mappa district che ragazzi quindi cerchiamo sono finiti i 20 secondi mi possiamo iniziare a cercare che la gente già si suicida un buono un buono così che c'è qualcuno che io sporo sempre in perché è più comodo ok io sporo un po tutto perché dovrebbero essere ogni cosa quindi spariamo qua no chiaro di soltanto non possiamo continuare qua questo no non credo sia questo saliamo che è una porta perfetto un po scatti e non so se l'oste di questa partita fa un po schifo niente un palo niente questa è una porta che è piano di oggetti e quindi possono essere qualunque cosa per qui siamo stati prima magari si sono messi in qualche glitch in qualche punto no uccidiamo il corpo non muore ok vediamo un po cosa possono essere vediamo un po un po per sicurezza che ho ok adesso è articolo quindi la macchina non credo quindi vediamo un po niente barilor questo esplode facciamo un altro esplode ok vediamo un cartello no un altro nessuno non so cosa si chiama forse no non credi sono mattoni no qui credi ci sia per forza qualcuno sento i fischi no niente non li trovo o sono quasi immisibili o sono io che sto in punti in cui non ci sono ho sentito un fischio qui vicino non credo sia quello andiamo non sapere cosa cercare dove sparare i fischi li sento proprio non pare che sono cose piccole che mi spugano tipo non so il tempo sta per scadere quanti niente di mango ah uno ecco perchè è difficile 3 2 1 c'è il fischio 2 1 è qui è qui vicino è qui dentro qualche parte è qui non possiamo farcelo sfuggire è qui in questa zona adesso questo lo vederà pure fino al 9 troviamo che cosa mi piace il fischio finale tra un po' ok non può essere lì aspettiamo il fischio finale secondo è in questa zona non so stiamo un attimo qua tra un po' 2 1 no ha cambiato zona è scappato ma raga ce l'ha fatta dov'era sto pizzo magari li può vedere nel replay nella kill cam oddio raga non è morto non so io vedevo la gente che si buttava sotto e moriva non lo so vabbè lo so solo lui ok secondo round siamo con solo un tavolo no ci sono una castiglia di cambiare non so se cambiare qui mi potrei mettere tipo anche così ci starebbe proviamo a cambiare da rischio dai ok benzina il coso di benzina non so dove loro sport ok è quello un po di benzina dove posso mettere la pompa di benzina c'è un benzinaio se non c'è un benzinaio che mi metto con la pompa faccio dove mi metterlo proviamo qui giù speriamo che non ne vedano sto con una pompa di benzina metto qui e provo a mimetizzarmi qui mettiamo proviamo così adesso si vede troppo però c'è la pompa di benzina in questa notte non so dove ah ho capito forse all'altra parte cerchiamo un attimo di aspettiamo un po che stanno tutti in quella zona quindi quando vanno nell'altro spoon me la scappo ci sono tutte le pompe di benzina ok ok nessuno ci vede quindi per ora vado anche bene vado un po una pompa di benzina qua non so come quanto possa essere reale oh ok raga no raga oddio scavalca oh mio dio raga però c'è stata un po trolla no insieme a quest'altra pompa di benzina siamo scappati buona cosa un po invece un po qui più invece mi potrei mettere mi fanno esplodere queste cose perché mi metto un po di qua mi fanno esplodere quei barili rossi mi fanno esplodere male c'è l'ho accanto aspetta raga raga geniale vota di genio raga assurdo raga raga un po se questo è meglio che mi metto un pochettino più raga un po raga raga ma quanto so forte è fuori dal tetto quindi uno può notarlo però c'è se non mi vedono può dire che funziona vediamo un po dove potrei mettere se no potrei mettermi in mezzo c'è uno qui guarda lì momento epico oh però funziona ma dico la gente è stupida cioè non mi guarda non è che stupido ma mi sono anche mosso vabbè quelli lì madonna raga assurdo la pompa di benzina vince mamma mia guardate che pro vabbè raga top che sublimità non so se esiste la parola però vabbè 3 2 1 ok si inizia a cercare vediamo un po vabbè non si sa mai esplosioni al gogo speriamo qua non so un po qui aperto non è chiuso voglio un momento mi diverto a fare squadre tutto vediamo dove possano essere questi bufu questo branco di bufu un po no niente forse forse ah è qui sicuramente c'è qualcuno ho visto se c'è qualcuno oh ok si 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 ah no ok 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 c'è detto non c'è nessuno ok raga le comunicazioni level call of duty i nomi qui ho alcuni punti neanche me li ricordo cosa ci fosse prima un po ok no qui tutto uguale tutto uguale tutto uguale neanche voglio sparare tanto so che non sono là l'ho sentito qua quindi magari è sopra qualche cosa o magari qui in mezzo oh ok raga inseguiamolo inseguiamo la scatola guarda che bufu si non capisco perché come fanno loro ah non non gli fanno non gli fanno non gli fanno da caduta ho capito quello rimarrà per ultimo quindi so già che sta lì devo trovare un modo per che sta qui dentro sta eh devo trovare perché più basso di così non ci va quindi fuori ha lotta tra lotta tra me e il pozzo non vediamo lì io non effetto ma che ti do ammortelli da 9 metri o più lol è lì dentro che tempo sarà per scadere però è imprendibile siamo in vantaggio dov'è quello? ah se è andato qui dentro potrei provarmi a mettere sopra è imprendibile qui sopra non ci posso mettere aspetta cosa c'era scritto? è scavalcare? uh no dica è imprendibile cioè non so voi no non vabbè mi ci metto pure io? no vedi no dai non sono così non sono una brutta persona mettermi qui dentro però aspetta provo a vedere con il cosa dica è imprendibile sto pure fa 0 ehi ragazzi hanno vinto perchè si sono campionati in un pozzo poi non so se era solo lui o altre persone sicuramente anche l'altra abbiamo perso un round perchè esploso un boh vabbè ci picchiamo l'ultimo round speriamo di pareggiarlo comunque si eviti vedete era questo che era qui dentro vabbè bello scald scald crasher sei proprio forte un proprio giocatore questa è tutta abilità bravo mh dentro una una casa un po' nascosto vediamo un po' un tavolo vicino a un altro tavolo così fanno un tavolo grande però dove lo trovo un altro tavolo? questi già sono sponati vabbè 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 mi metto dove avevo visto prima mettiamoci qui è l'unico tavolo che c'è in giro che io ho visto comunque vai mettiamoci vicini ci sta anche eh ci sta ci sta ci sta Di brutto ci sta Vai Adesso aspettiamo Che venghino Aspettiamo che venga Venga Ce l'abbiamo accanto Andiamo qua No Oddio raga Scappa 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 Andiamo qua Mettiamoci Tavoli non esistono In questo gioco Cioè Non so voi però Su sta mappa Non ci sono tavoli Vabbè siamo scappati Ma buono così Vita loro spawn Che hanno già controllato Quindi Magari vinciamo Più facilmente Dov'è Ah bei tavoli Li potrei mettere qui Però questo è di far muro Raga Geniale Raga Non so voi ma io Adesso sia una cosa geniale Tutto qui così Raga Oh mia No ci sono i tavoli Però sono nascosti Quindi mi permette Intanto attacchiamoci un po' Intanto mi squilla pure il telefono Boom raga Top Top del top Diviamo la pendenza Vediamo un po' Dove sono gli altri Una scatola Ah Siamo rimasti Soltanto in due Bello Ma raga Cioè A me non mi troveranno mai È una roba assurda È l'ultima possibilità Cioè raga Top del top Ci vorrebbe soltanto che un altro tizio della mia squadra smettesse sopra di me Così sembra proprio Reale Raga non mi trovano Non riusciranno a trovarmi In quanto 30 secondi Sono messo troppo nascosto E più Cioè Uno non gli viene in mente Che io Sono qua 10 secondi Ce l'ho nella casa A fia Vediamo se riesce a trovarmi Questo scappo Non so Perché Ho finito le accecate Ma comunque abbiamo vinto 2 1 0 E boom Si porta a casa La vittoria Non mi dà il pareggio 2 a 2 Quindi Almeno non l'abbiamo perso Dunque ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Se stavate lasciando un bel like Un commento Vi dicevamo al prossimo video Bella